ben ritrovati oh era un po di tempo che non costruivamo qualcosa facevamo qualcosa quindi oggi è il giorno giusto per rimediare allora quindi che quale oggetto potremmo mai costruire per rompere i coglioni volevo dire per aiutarci nella vita di tutti i giorni beh molti anni fa è stato fatto vedere che con una chiave inserite la chiave dentro la feritoia della moneta di un carrello qualsiasi della spesa e aprite il carrello però la chiave rimane dentro ed è fondamentalmente una rottura i coglioni perché ogni volta praticamente vinti infilzati che prendete il manico del carrello vi infilzate quindi detto questo cosa si può fare è lock picking a tutti gli effetti anche questo no però c'è un trucchetto il meccanismo interno di questi carrelli che funzionano con sta cazzo di moneta funzionano quasi tutti alla stessa maniera ovvero qua c'era moneta e qua viene chiuso quindi serve qualcosa che scansi ok piegando e girando il meccanismo della moneta in maniera tale che riusciate come si dice a detach farlo uscire staccarla tirarla fuori eccetera cosa ci servirà potete utilizzare qualsiasi tipo di materiale c'è tipo acciaio ottone magari rameno un pochino troppo morbido insomma il cazzo di corrimano di casa vostra qualsiasi cazzo di cosa va bene a patto che sia massimo un millimetro ok di spessore questo è titanio perché voglio fare le cose fighe me la devo minare ce l'ho più grosso di tutti no è l'unica roba che lo attiro e vaffanculo faremi in titanio comunque la prima cosa che vi serve ovviamente è la moneta e voi dite cazzo la moneta che minchia me ne frega di fare lo strumento ecco sì vabbè vaffanculo questo poi lo fate e lo lasciate nel vostro cazzo di mazzo di chiavi di casa quindi in questo caso moneta da un euro prima cosa da fare è tracciare anzi lasciate comunque un po di spazio dal bordo poi vi spiego perché tutta la sagoma della moneta e poi iniziare il design allora facciamo così circa una matita che sicuramente non attiro e sicuramente avrà la punta rotta quindi ci metterò altra mezz'ora per fargli la punta con qualsiasi cosa che trovi in giro ora e vi spiego meglio ok ho trovato una matita che prendete fatto la punta che pare in tronco cionco però fa niente allora come vi dicevo ricalcate la moneta e ora vi spiego che cos'è che dovete fare in più ok non riesco a mettere a fuoco ok pare un cazzo ma no non lo è allora dovete comunque tenere a mente che c'è il manico ok e serve comunque un qualcosa per muoverlo quindi cercate di trovare quanto più centrale possibile sulla sagoma della moneta che avete preso poi altra cosa c'è bisogna fare due specie di cunette ma le potete disegnare come stracazzo vi pare piace cioè è indifferente basta che non le fate troppo acute ok devono essere molto più morbide c'è tipo una roba del genere e l'altezza ok di queste due cunette qua deve essere zero virgola qua no 4 mm ok massimo 4 mm già 5 poi fa fatica ad entrare tenete a mente che dovete andare un pochino più giù qua ma sarà forse un millimetro e per il resto qua e qua serve che sia praticamente tagliata questa forma poi la potete dare anche un pochino più aggraziata e circa tre quarti del della lunghezza ok se voi fate conto la lunghezza qua deve arrivare più o meno qui quindi un tre quarti ok ovviamente tutto fatto a cazzo di cane perché giusto così è fatto a cazzo di cane tutte le misure la cosa che potete far dopo ovviamente è prendere e ritagliare la sagoma poi potete fare il cazzo di design che vi pare piace è indifferente comunque adesso vado a ritagliare il pezzo e poi ovviamente andrò a rompermi i pezzettino per pezzettino prendere fresare di mare tornire eccetera ma tutto questo vi risparmio la sequela di bestemmie e ci vediamo tra poco quando ho già fatto ok ecco qua come vi dicevo dopo non poche bestemmie ovviamente preso e sono andato a fare come vi dicevo la forma della moneta beh ancora bisogna sistemare tutto quanto ok anzi forse sborda di qualche millimetro di qua e qualcuno che beh insomma c'è da fare qualche aggiustamento quello che mi premeva era capire se effettivamente esatto come vi dicevo vedete servono queste due orecchie fuori perché servono quelle per fare leva sul meccanismo cioè muovendo il manico ecco il manico fa niente gli farò un buco perché è una roba per appendere però per lo meno sembra un fantastico fungo atomico che è molto in voga in questo periodo però dettagli allora vado a sistemare un pochino meglio magari qua i lati un pochino a tirare dritto e tirare via tutte le sbavature per farlo utilizzerò della carta vetrata inizierò con quella da 240 per poi andare sempre più su e vediamo di sistemare un attimino a tra poco e voilà questo dovrebbe più o meno essere il risultato lascia stare stare il manico non ve ne frega niente dovrebbe essere più o meno il risultato finale adesso non è proprio il massimo è pieno di graffi però non me ne frega un cazzo perché tanto è qualcosa che utilizzerò per me l'importante che funzioni adesso gli darò una fiammata così diventa a un pochino più di colore e beh faccio vedere il risultato e poi andiamo a testarlo ovviamente ed ecco fatto allora parte porta chiavi che va bene ce ne frega un cazzo più o meno il risultato finale dovrebbe venirmi venirvi più o meno così magari anche meglio c'è tipo senza graffi in giro eccetera però è più o meno la forma che desideravo adesso vabbè è un pochino sfiammato eccetera perché non avevo voglia tempo di stare a fare tutte le finiture varie e che dire di più manca di andare a testarlo quindi andiamo a testarlo eccoci qua prova del 9 allora vediamo un po inseriamo sempre che riesca di inserirlo ok adesso bisogna schiacciare un pochino e adesso adesso a vedere se si sfila si si sfila perfetto carrelli gratis per tutti oggi comunque funziona e anche per oggi è tutto